Naomi ha ucciso Shiori, ma con il Death Note non si può ordinare a qualcuno di uccidere un'altra persona. Non è così che funziona. Questo lo so benissimo. Ecco perché finito con Naomi, ho scritto il nome di Shiori sulla pagina seguente. Akino Shiori, uccisa da terzi, viene rapita e portata alla galleria d'arte ed è costretta a telefonare al fidanzato alle 14.15 del 15 aprile 2006. Cerca di fuggire quando la polizia sta per fare irruzione, ma alle 14.55 protegge il fidanzato da alcuni spari di affertimento e viene colpita a morte. Io no...